No, stai continuando a parlare male, e quando parli male ho dei sassi, mi ingassa. Che non ho parlato? No, signora, sta parlando male. E mi sto ingerzando. Lui mi ha ingassa, con le sue certe le sto dicendo. Oh, e io, come faccio? Io la pazienza mi serve. No, no, perché sta parlando male. Ma sta parlando con lei, lei è la persona. Sta parlando di lui, però sta parlando male di lui. E' la mia moglie.